Un'estate all'insegna dell'arte, quella proposta dalla Prologo di Monterosso Calabro con la mostra artistica Il Borgo in mostra allestita presso il Palazzo Municipale. L'evento si svolge nell'ambito dei Cenacoli Monterossini 2023, il fortunato format culturale voluto dall'Associazione per promuovere le risorse artistico-culturali del territorio, con l'organizzazione tecnica e artistica affidata allo scultore Antonio Salvatore Maio, che è riuscito a coinvolgere i più importanti artisti calabresi. Oltre 70 le opere esposte. Alla sezione arte contemporanea sono state aggiunte le due sezioni dell'arte orafo, con le opere di Pietro Topia e dell'arte presepiale, con le opere di Antonello Ceravolo, Aldo e Paolo Farina. La cerimonia di inaugurazione nei saloni di rappresentanza del nuovo Palazzo Municipale, con la partecipazione di un folto pubblico e di tanti artisti provenienti da tutta la regione. A fare gli onori di casa il sindaco Antonio Giacomo Lampasi, che ha voluto ringraziare la Proloco per questo nuovo e forte impulso culturale posto in essere nel percorso di crescita della comunità. La mostra rimarrà aperta fino al 18 agosto, dalle ore 19 alle 24. Nell'occasione potrà essere visitato anche il presepe artistico permanente realizzato da Antonio Pipicelli negli anni 80 e recentemente restaurato dagli artisti Virma Pipicelli e Giuseppe Chimirri.